eccoci in diretta la 21esima giornata in serie di gara fra alleluia fc e drosofila vedremo come si metterà questo incontro il pareggio della drosofila settimana scorsa anzi dei alleluia invece la vittoria dei ragazzi della drosofila sono i risultati da cui partono queste due campagini vedremo se riusciranno a continuare la striscia positiva a mezzo piede dentro defrede sul mancino il palo di defrede il giudice attenzione il pallone per defrede tiro fuori di un soffio che giocata il giudice passante passante ecco poi dacchi illuminante ranieri salta secco cacace ranieri lanciato in rete ranieri ancora gallipoli ladro granato ladro e la punizione di del giudice non la tocca nessuno il gol dell'1 a 0 dell'alleluia è la buccia ed è gol di di stefano non si è capito perché lanzarotti si è spostato sta di fatto arriva all'uno a uno comunque la buccia è una 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 buccia attenzione il tiro alla rete di defrede il gol del 2 a 1 tra lui e fc attenzione a sante a sante balacenuta di stefano molto bene lanzarotti attenzione al contropiede ranieri ranieri la respinta tra i piedi di defrede che è la piazza ed è il 3 a 1 dell'alleluia fc finisce qui il primo tempo sul 3 a 1 dell'alleluia fc il secondo tempo sul 3 a 1 per l'alleluia fc contro la drosofila partita che però sembra avere ancora molto a raccontare ma guarda colpo di testa di a sante che incorna e fa 3 a 2 accorce le distanze per la drosofila finisce essendo i minuti io poi abbono non tenevo molta fame cioè tenevo fame però non riuscivo a mangiare tanto pezione di stefano prova ad andare in mezzo a 2 di stefano alla piazza il pareggio di stefano che sulta come siril teru e fa 3 a 3 con totale immaturità con totale inconsapevolezza cacace 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 risultato ribaltato dalla drosofila che dallo svantaggio si riporta in vantaggio 4 a 3 il punteggio poi non c'è fallo secondo l'arbitro allora l'imbucata cacace legge bene in avanti attenzione di stefano fuori gioco calcio di stefano lanzarotti questa volta risponde presente enzo assante 3 contro 1 assante per canzanella e non ci credo un pallone leggermente è imperfetto per di stefano che deve solo appoggiare in porta arriva ancora una rete 5 a 3 non ci credo la drosofila allunga le distanze proprio nel momento in cui gli avversari pensavano di prendere le misure e adesso ancora più difficile per loro il compito attenzione assante 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 la spalla in rete assante il gol del 6 a 3 che chiude i giochi io? joan senti praticamente deposita in rete del giudice il gol del 6 a 4 ormai manca pochissimo ma spera di poter raggiungere gli avversari all'occa la pressione all'occa all'occa che fura di assante che salta tutti assante in volata la cedda di stefano di stefano per canzanella canzanella lo butta il gol del 7 a 4 sprega incredibilmente assante canzanella canzanella la vittoria per 6 reti a 4 della drosofila rimonta davvero una partita spettacolare ognuno ha fatto i propri ruoli insomma senti cosa è cambiato secondo me da 3 a 1 a 4 a 3 quale è stato diciamo l'elemento che ha portato a questo tipo di reazione a parte la voglia del capitano qua e poi il cambio posizione niente di capezza perché c'è un po' di incazzamento poi gli assist di cacace robert un'altra vittoria per voi una vittoria importante perché soprattutto bilan morale in quest'ultima fase del campionato forse si noi ovviamente lo sapevamo di vinci siamo venuti qui convintissimi e ce l'abbiamo messa tutto ovviamente pensiamo di arrivare bene cioè di giocarci da bene prima grazie ragazzi alza la crescita male fuori 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 fuori